Siamo a Viterbo, siamo a una delle manifestazioni più grandi che ospita Viterbo, che è Caffeina Cultura, con ospiti di grande elevatura e quest'anno per la prima volta con la collaborazione dei club della zona B e della quarta circoscrizione siamo presenti con uno stand istituzionale che sarà presente per tutta la durata della manifestazione ed una seconda postazione che vedete alle mie spalle che ospiterà, darà la possibilità a chi fa cultura, a chi promuove il territorio, a chi opera sul territorio di poter esporre le proprie cose e quello che fanno. Lo abbiamo fatto come Lions perché siamo territorio, cultura e solidarietà. Siamo qui ospiti del grande club di Viterbo, che è il padrone di casa. Ci saranno anche i club di Tarquinia, che saranno qui nel 29, arriveranno da Roma, arriveranno dalla Sabina, arriveranno da varie parti del nostro distretto a rappresentarci. La presenza dei Lions nella mia città è stata una presenza molto utile, molto costruttiva e direi anche di grande soddisfazione. Abbiamo fatto insieme dei progetti che hanno avuto un esito importantissimo per la città, per la comunità in particolare e l'ultimo è quello del centro di assistenza infermerese che abbiamo fatto insieme. In un anno abbiamo fatto 1800 servizi sanitari, il che significa che l'esito era addirittura isperato. E questo è frutto appunto di una collaborazione che nasce volontariamente da Lions, dal comune di Viterbo e credo che sia un grandissimo esempio anche per il futuro. E continueremo su questa strada, quindi non è che finisce qui, anzi ci sarà un quartiere molto popoloso che avrà bisogno di questa nostra integrazione comune Lions. Altre cose, insomma, già le abbiamo fatte insieme, il recupero di monumenti, il recupero di alcuni monumenti storici. Io non voglio dimenticare che c'è qualcosa che avete fatto sulle mura civiche. Qualche anno fa, un bellissimo convegno, città murata mi ricordo, dove Viterbo è un esempio di città murata dove grazie a Lions ha potuto essere conosciuta come una delle città murate più importanti d'Italia. Il mondo associativo, secondo me, è un mondo che è sempre più utile per la collettività e soprattutto per le istituzioni. Perché? Perché ci sono innanzitutto risorse umane e direi anche a volte finanziarie, umane principalmente, che possono indubbiamente dare quel contributo che manca ad ogni amministrazione pubblica, soprattutto in questi momenti di difficoltà.